Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. In Fipilì un chilometro di coda per incidente tra San Mignato e Montopoli-Valdarno in direzione Mare. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni, nel tratto tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso. In A1 tra Firenze in Prunetta e Incisa Reggello in direzione Roma, traffico ralentato per veicolo fermo in avaria. In A1 per lavori, stanotte con orario mezzanotte 6, resterà chiusa l'uscita a Firenze Sud per chi proviene da Bologna. A Firenze è stata temporaneamente chiusa via Giuseppe Galliano per materiali dispersi in carreggiata in seguito ad un incidente. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio. Buon viaggio.